Kennedy si disse dei canna B Kennedy voleva sognare e far sognare un mondo di disastri naturali e guidare alla compassione divina nel senso di piacere fino ad ammattire nel senso del dovere sacro e inedottabile nel senso materiale del divo sulle scale canna B invece voleva accompagnare il senso del dovere era quindi forse un mare guai a dire male non conosci non c'hai a che fare